Si è avvalso della facoltà di non rispondere Cosimo Nobile, 52 anni, detto Mimmo nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Lanciano. Dinanzi al GIP di Renzi si ha fatto scena muta. Nobile è stato arrestato dagli uomini della mobile di Pescara nella notte tra domenica e lunedì per omicidio e tentato omicidio insieme a Natale Ursino. Ritenuti entrambi i responsabili dell'agguato del Barg del Parco il primo agosto a Pescara, agguato in cui è stato ucciso l'architetto Walter Albi e ferito l'ex calciatore Luca Cavallito. Nobile, presunto esecutore materiale, si dichiara innocente. Sentiamo l'avvocato Luigi Pelusi. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, come è naturale che sia oggi perché abbiamo scoperto solo ieri la natura delle contestazioni, solo dell'ordinanza. È un lavoro lungo e complesso. Nobile si professa innocente. Dal primo giorno che si è rivolto a me continua a farlo, quindi ci impegneremo con tutte le nostre forze per dimostrare le stranità di Nobile a questa vicenda. Omicidio è tentato omicidio. Le principali accuse, nobile e noto alle forze dell'ordine da tempo, nell'agguato avrebbe usato un'arma rubata ad una guardia giurata in una rapina effettuata a luglio del 2022 all'agroalimentare di Cepagati, rapina per la quale è indagato. Il presunto mandante dell'agguato è ritenuto Natale Ursino, arrestato a Roma, residente del Terramanoma di Locri. Secondo gli investigatori avrebbe legami con la criminalità calabrese. L'agguato della strada parco è un fatto criminale senza precedenti che ha scosso molto Pescara. Dall'ordinanza non mi pare che ci siano collegamenti che possano giustificare l'allarme che si è creato, non con il Nobile sicuramente.